Quanto è fortunata Ella ad avere al suo fianco così alti esempi di impegno civico e morale. Ella, Margaret, Novak Bin. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ella non se ne ricorderà. Non ricorderà che voi eravate qui a coccolarla. Non ricorderà che il Presidente degli Stati Uniti l'ha tenuta in braccio. E spero tanto che non ricordi la scenata che ho fatto quando ho saputo che le peonie giapponesi non sarebbero arrivate in tempo. Episodio inciso a fuoco nella mia memoria. Oh, dai! Lei non ricorderà, ma spero che voi ricorderete questo giorno. Non per la mancanza delle peonie giapponesi, ma per l'immenso amore che si respira qui oggi. Aella, alla famiglia! Alla famiglia! Auguri! Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.